Non è finito, per favore, non c'abbiamo di sentire. Signori, Diego e Simone, i miei ragazzi, tutti per voi. Signori, Diego e Simone, i miei ragazzi, tutti per voi. Signori, Diego e Simone, i miei ragazzi, tutti per voi. Signori, Diego e Simone, i miei ragazzi, tutti per voi. Grazie a tutti i miei ragazzi. Grazie. 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 Grazie.